senti quanto mastica allora come vuoi i capelli come li vuoi i capelli la facciamo alla come si chiama la balotelli o la esciarawi mi dica lei come l'orecchia come l'orecchia come l'orecchia come l'orecchia ma qual è io so che i cavalli dormono in piedi ma va giuro si è vero dormono in piedi beh anche seduti ma guardate come bello quel polino lì quello non è un elemento snello quello è un elemento tolto è carissimo si è un cucciolo è un giovane no è un nano è un cucciolo ma stiamo parlando di due cavalli diversi eh si lei sta dicendo eh quello la ok è un cavallo piccolino ma l'altro è un cavallo nano è un nano è giovane è giovane oh andiamo anche noi da quei signori la si infatti non so perchè siamo qui eh no io giuro non ci vado ma non è un tipo scusate io non ho spaventato io pensavo fosse un tipo quello sbaglia a parlare degli uomo lui ti dice sì certo ma c'è faccia pure i baffi ma io da lontano ma ce la faccia pure i baffi la marma non so ma ne vado c'è dell'acqua oh mini russello no esce dalla no no non sozzi la macchina no è il fango attenzione, faccio sulle rocce lui è il papà di Ciacanore si mette spavento solo a guardarlo senza muoversi ma è chiuso siamo tornati si dovevamo Lidl il cuore il cuore il cuore il cuore il cuore l'intervento è questa è la scala l'intervento l'intervento Oh, ma è aperta! Qua c'è la casa della strega, del bosco, è tutto buio Si vede una sega Vabbè, andateci dentro Eh, ma... Non crolla Ci manca una mezza trave Ci manca una mezza trave Il problema è che se uno appoggia il muro, sta su quella preghiera Ma il muro? Però o dovrebbero chiuderlo o dovrebbero buttarlo giù Non avete corso alla fine? Si Voi due Io sto registrando perché la corro io Vabbè giusto, fai la ripresa che corri Più realistica Secondo te cosa fanno i registi quando ci sono le scene in cui corre il personaggio? C'è il cameraman che corre C'è il cameraman che corre O con le macchine No, c'è il cameraman che corre Qua abbiamo un'altra piantagione di marijuana sempre che la scena... Con la... Ma io lo so Ma... ma qui siamo... che sentivo esco? Siamo più che si vuole Cioè siamo arrivati dove... Ma là c'è una strada lì Quindi non ci siamo proprio persi Guarda! Ciao! E ti caga molto Bambi? Bambi Bambi Ma mica un gatto Ma lì c'è un buco 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 Ma mi giro il culo quello lì Adesso... C'è un foglio Aspetta È tutto lì solo solezza Vanno abbandonato Bambi 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 Ipet è dov'è? Chi è? In quel verso lì mi sa che... C'è un buco di una che si sta sfruttando No, non dire E' intenta mangiare Ma perché ti... Vabbè... Ci arriva Ci arriva la in alto C'è stato un altro tentativo di ramo lanciato lì Vedi che si è incastrato Un'altra persona E' incontro Secondo me è più probabile che sia caduto Daina C'è proprio... Stai bene? Nooo Però almeno ci ha guardato Ancora? Ha mangiato troppo E' la glicemia E adesso viene anche a me il singhiozzo per colpa tua E' la glicemia che si sta alzando Andiamo via Stiamo a guardare quello che mangia Guardiamo... No, vabbè 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 No, vabbè